Dall'ecografia si vede che il verme è penetrato a fondo nei tessuti, ma dovremmo estrarre questo cosa senza problemi. Jake potrebbe morire, o restare su una sedia a rotelle per sempre. Ho insistito io per andare in Thailandia. Cerco di trasformarlo in qualcun altro. Forse stiamo sbagliando. Ma di che cosa parla? Come sa che è stato uno sbaglio? Non so perché torniamo insieme. Siamo sempre gli stessi, ma ci aspettiamo un risultato diverso. Non è follia per definizione. Oh, amore. Se c'è la scintilla, c'è la scintilla. O forse credi che ci sia la scintilla, ma è successa una volta sola e non lo sai. Ne potrai capirlo perché andrai dall'altra parte del paese. Togliamo questo verme in fretta. Certo, prepara l'irrigazione. Subito.